sabato 11 luglio a modena torna quando la banda passò caroselli parate e coreografie con le migliori marching show bands da tutto il mondo in campo per contendersi il world bands challenge la vera sfida tra campioni special guest dagli stati uniti arrivano i blue devils sabato 11 luglio a modena campo scuola atletica ore 21 quando la banda passò le bande con una marcia in più col patrocinio di expo milano 2015 provincia e comune di modena